ciao a tutti allora per fare questo giochino occorrono un cestino va bene anche un cartone lo tagliate a metà poi prendete tutto quello che avete che riguarda il cane palline giochi peluche tira e molla insomma chi più ne ha più ne metta questo mi serve diciamo da tappo prendete dei bocconcini questi sono i preferiti di tequila e li nascondete tra i peluche o i giochi in generale come vedrete praticamente il primo tentativo che farà tequila sostanzialmente di andare dentro col muso però sarà abbastanza difficoltoso e dovrebbe poi prestarsi a tirar fuori i giochi dalla scatola benissimo